Fossombrone, Pesaro Urbino, 29 ottobre 2017 in una città che si spacca per ogni non nulla ha addirittura provocato l'invio di una lettera alla prefetto la manifestazione Zombie Night Game, partita ieri notte nelle vie del Centro Storico. Si tratta di un evento organizzato da Etteventi e Teatro Associazione Culturale di Fermignano impegnata nella promozione di attivi teludico-teatrali in tutte le marche, l'occasione e la festa di ogni santi. Celebrazione di origine celtica che ormai conosciamo tutti come Halloween, anche se è raggi conosciuta da noi in forme meno pacchiane e commerciali. Come hanno spiegato gli organizzatori nella conferenza stampa di presentazione, le vie del Centro Storico si animeranno in un'enorme area di gioco sullo sfondo dell'apocalisse. Zombie, un live action game a squadre, che combina caccia al tesoro a tempo. Orienteering e gioco di simulazione. I partecipanti ricevono una mappa. Viene loro assegnato un colore di riferimento e data l'indicazione del punto di partenza. Da corso Garibaldi sono sei percorsi che si snodano per tutti i vicoli. Spesso non frequentati e poco conosciuti dagli stessi forsempronesi. Non tutti sono d'accordo. Alcuni abitanti di via Cesare Battisti, pieno centro storico, hanno infatti inviato una lettera al prefetto in cui mettono in luce almeno quattro punti problematici. Non essere stati adeguatamente informati dell'evento. Quali siano le garanzie di sicurezza per i partecipanti e i cittadini. Perci tocca sempre al loro rione. Che per inciso anche quello del sindaco. NDR. Subire queste iniziative. Se non sia un problema avere gente mascherata che gira di notte per i vicoli del centro CIT. Come sempre, le opinioni discordano. Qualcuno appoggia in toto la caccia allo zombie. Per esempio un commerciante di abbigliamento di Portafano. Che dice, per una volta che in questa CIT entra un po' di allegria e divertimento non va bene. Preferiscono una CIT triste. Un grande dormitorio. Un collega che ha il negozio non molto lontano più problematico. Forse quattro giorni sono troppi dice e poi non roba nostra. Viene dall'America. Virgolette. Il sindaco Bonci. Forse i residenti temevano una cosa tipo carnevale storico dice con gente alticcia che si agire indisturbata. Non ci sono locande dove bere e chi gioca paga per farlo. Per cui gioca e basta e non fa casino. Ovviamente saranno presenti carabinieri e addetti alla sicurezza.